BELLA RAGAZZI Io sono il Gabri Si da tanto tempo che non ci sentiamo Direttamente Volevo avvisarvi Che staranno per arrivare molte Unboxing e come potete vedere Questa è la roba Che arriverà Si adesso Ancora tutta qui impacchettata Però devo ancora finirla Di comprare tutta perché manca Il case, l'hard disk e dei cavi E poi successivamente Andrò ad unboxare Ogni singolo Pacchetto Quindi ragazzi non vi preoccupate Se adesso non ci sono video interessati Ma adesso ho il raffreddore E il mal di gona Quindi vedo adesso Dovrebbero uscire Se non riescono pazienza Fa lo stesso ragazzi Cioè tanto sapete che se vivo Non muoio da un giorno all'altro Comunque ragazzi Niente come vi ho detto Queste unboxing Non saranno diverse dalle altre Però dureranno come sempre Tra 4 minuti per ogni pezzo Solita roba Solito unboxing Sperando di riuscirle a fare Entro breve tempo Perché vorrei Assemblare il computer Al più presto possibile Per poterlo usare subito Quindi ragazzi Ciao ragazzi Ciao 파이�ramziehen Ossie Sperato Mulire 沉 Ol部 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 Iv dental Ol部 Olub privation Olub finden E Olume Olub 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 Olub